buongiorno cari amici e amiche oggi ho dormito nella mia fantastica tenda qui ho mangiato in questo fantastico tavolino e qui ho bevuto acqua pesciato cagato cazzo cazzo oggi si andrà sul monte conero monte conero e si scenderà giù non c'è niente di meglio della semplicità delle cose salame formaggio e pane buona colazione buongiorno Grazie per la visione 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 Grazie per la visione